Noi siamo stati una bella squadra al primo tempo, poi siamo caduti nella trappola degli avversari forse. Dal punto di vista della partita, parliamo invece della partita dove noi possiamo invece lavorare e continuare a migliorare. Io sono entrato adesso nello spogliatoio a fine partita, sinceramente molto sereno e tranquillo, perché noi finché abbiamo potuto giocare le nostre carte siamo andati benissimo, per 16 minuti li abbiamo veramente tenuti alle corde. Poi loro un po' di furbizia, un po' giocando sulla loro esperienza, sui loro nomi, hanno un po' influenzato alcuni fischi arbitrali, ma questa è un'altra storia. A me quello che ho detto ai ragazzi lo dico anche qua con molta schiettezza. Perdere di sei punti contro una squadra come San Vincenzo, avendo prodotto 73 tiri contro i 62 loro, 49 rimbalzi totali contro i 40 loro, 7 palle perse rispetto alle loro 11 palle perse. Con, come hai anche accennato tu, degli elementi che di solito ci danno tantissimo oggi per cause esterne, hanno dato meno. Perdere questa partita solo di sei punti, io penso che un'altra squadra, altri ragazzi con un'altra mentalità, penso che oggi l'avrebbero perso di 20, 30. Hanno giocato a volte anche contro i fischi arbitrali, hanno giocato facendo 1 su 22 da tre punti, il 5%, facendo 18 su 26 tiri liberi. Cioè veramente dove ci è voluta un pizzico di, chiamiamola anche fortuna, in questa partita non l'abbiamo mai avuta. Quello che c'era da fare invece con le nostre strategie, la nostra energia, l'abbiamo fatto bene. Poi, come ho detto allora, se tiriamo con queste percentuali, sia da tre che ai tre liberi, è difficile. Però io sono contento perché, ripeto, in un altro momento o con un altro approccio, questa partita si sarebbe persa di 20, 30 punti. Poi, come ho detto tu, vediamo adesso, finiamo con queste due partite da fase regionale e poi ce la giochiamo ai play-off. Con i risultati di oggi, con Prato che ha perso di 35 a Carrara, praticamente siamo matematicamente terzi e questo è un altro mini risultato raggiunto.